altre due lezioni, me le vado a pianificare, insomma. E quindi man mano andrà, come nel Foschio adesso, verrà una grande mappa, una mappona, per non usare il termine negativo. Un mappazzone. Un mappazzone, vabbè, poi dopo ci vuole sempre Luigi, che è il master delle parole. Allora, andiamo... sono in difficoltà... Vabbè, voi se vedete è meglio. Quindi, in che cosa consiste questo incontro? Ecco, noi dobbiamo mostrare come si accede alla piattaforma in diversi modi. Poi dobbiamo vedere qual è l'ambiente di lavoro iniziale, che a volte, spesso, alla prima volta, sembra che sia un ambiente scarno. Invece poi dopo scoprirete che alla fine, se non ci lavorate un bel po', vi trovate spaesati per poter fruire di tutte le risorse che il sistema mette a disposizione. Allora, in questo caso, chi è l'admin platform? In questo caso specifico, che voi siete stati invitati da me per poter partecipare sul mio progetto, l'admin è quello che ha il contratto, che ha stipulato il contratto con H-Software per uno dei prodotti BIM. Il fatto che una buona parte di voi userà ASBIM Viewer, perché quello è un software gratuito... Claudio, scusami, consiglio per favore a tutti di chiudere i microfoni... Chiudeteli tutti, chiudeteli tutti i microfoni, così voi mi ascoltate, poi mi fermo e vi li faccio aprire, perché giustamente c'è la sedia che va, perché questo poi verrà anche nello streaming. Chiudete tutti i microfoni, senza che ve lo dico io. Poi li riapriamo, perché comunque va bene sempre chiacchierato. E come si fa ad inserire un nuovo progetto? Voi invece avete, per quelli che sono riusciti a fare il collegamento completo sul mio progetto, che ho condiviso, voi siete diciamo o dei BIM Manager, come è per esempio Stefano, che ho indicato questa figura, visto che è una responsabile di settore nella pubblica amministrazione, diciamo che oppure siete dei profilati come standard, attori standard. La profilazione è solamente per dire, sono voi che fate parte dell'abbonamento, e se fate parte dell'abbonamento potete far parte o meno di un singolo progetto. Tenete conto? Allora, io infatti adesso in live metto a posto i pasticci che faccio quando scrivo, perché capite che scrivo, e adesso devo andare a accendere anche la... aspettate che vado a accendere un attimo la luce. Un attimo solo. Ok, ci siamo, siamo tornati. Allora, cancelliamo questo, questo qua, cancelliamo, va beh, questo lo cancelliamo, adesso me lo segno in colore, così poi lo cancello. Ok. Quindi c'è diversità tra la profilazione degli utenti a livello di abbonamento. Cosa vuol dire? Che io adesso tutti quanti voi potreste far parte di un progetto, e io ho un elenco lunghissimo. Però quando faccio un nuovo progetto decido che solamente una parte di questi faranno parte del progetto. E se siete andati a vedere sulla mail, vi è arrivato un messaggio da H-Software che vi ha indicato che io vi ho indicato come appartenenti al progetto. Poi vedremo la struttura del progetto, le cartelle. Perché ho usato questa parola? Perché in effetti non ha... mi sentite tutti penso, mi auguro. Può rispondere uno per tutti. Stefani mi senti? Sì, Claudio. Ok, tutti ok. Sì, ti sentiamo tutti. Ok, adesso pieghi il microfono a lui. Allora, la struttura del cartello vedrete che nell'ambito del nostro percorso assumerà un nome proprio dell'ambiente BIM, che si chiamerà ACIDAT, cioè è l'ambiente in cui si condividono le informazioni, modelli, relazioni, documenti, tavole, tutto si condivide. Poi vedremo questa struttura che è divisa in tre sezioni fondamentali. La parte che riguarda il progetto e il suo sviluppo, la parte della BIM Object Library e la parte del BIM Share, che sono documenti, ascoltate bene, che sono condivisi tra tutti i progetti. Cioè io, lo fa solamente l'Adminate Platform, io metto una serie di documenti e quei documenti per tutti i progetti a venire saranno disponibili. Non devo più farli e se ne aggiungo ancora qualcuno, questi nuovi documenti, da quel momento in poi, sono disponibili per tutti i progetti. Poi vedremo chi sono gli attori del progetto, il BIM Admin, il BIM Manager, il BIM Coordinator, che dovrà fare una precisazione. Poi c'è il BIM Specialist. Ecco, ecco qua già la prima differenza. Oggi noi, anche se usiamo una software BIM come Revit o come Alplan, come di Features, come Archicad, noi in sostanza siamo tutti dei BIM Specialist, cioè dei professionisti che siamo in grado di fare dei modelli. Qual è la differenza tra essere un BIM Specialist e essere un CADista? La differenza è che voi generate modelli dai quali ricavate tutte le informazioni, ricavate tutte le piante, sezioni, prospetti, rendering in modo dinamico, in modo automatico. Però non siete immersi in questo, diciamo, processo che dovrebbe portare dall'idea iniziale fino addirittura alla dismissione e smaltimento della, diciamo, della costruzione. Quindi è molto diverso, cioè il BIM Specialist fa una piccola cosa, però poi dopo ci vogliono il BIM Manager e il BIM Coordinator che servono poi per portare avanti tutto il processo. Vedremo come utilizzare il ruolo, lo mettiamo in grassetto così, perché voi vedrete che ogni volta che io vi mando questo documento in formato PDF, le correzioni che riesco a fare ci sono. Poi vedremo, ecco qua, l'accesso alle cartelle con specifici criteri di accesso. C'è, lo faremo fare solo a coloro che sono riusciti ad accedere alla platform di IAC Software e sono potuti rientrare nel nostro, in questo progetto e, diciamo, saranno loro ad operare. Io farò vedere all'inizio e poi saranno loro ad operare. Ok, questo è quanto. Adesso la prima cosa che interessa capire è come faccio io ad accedere all'ASBIM Platform. Posso farlo fondamentalmente in due modi. Ho un software di IAC Software e nel menu File di IAC Software, qualunque sia il software BIM che avete, nella voce File c'è sempre la voce ASBIM Platform 1. Si apre la nuvoletta e nelle nuvolette ci sono quattro voci. Vi dico che oggi non funzionavano le prime tre, ma l'ultima funzionava. Nel momento in cui voi fate ASBIM Platform 1, lui sa già chi era collegato sul software, per esempio, edificio piuttosto che l'INUS e vi apre direttamente la piattaforma per poi fare l'operazione che vedrete. L'altra invece è questa di sotto, che è quella che vi ho scritto oggi nella comunicazione che vi ho fatto. Cioè se voi scrivete, come c'è scritto lì, ASBIM Platform 1, aspettate un attimo, facciamo così, login poi lo metterò a posto bene. Sulla barra di Google vi compare la voce di accesso, che praticamente è ASBIM Platform, e vi chiede le credenziali. Nel momento in cui vi chiede le credenziali, voi potete accedere ai progetti. Ho simulato il caso in cui non c'è, ecco sotto c'è anche scritto, questo qua, se voi non volete ricordarvi questo giro, diciamo, attraverso Google, basta che scrivete HTTPS Parabar Platform ASBIM COM, e voi passate sempre attraverso questo accesso. Che cosa fate con questo accesso? Voi accedete ai vostri progetti, vostri, e a tutti i progetti che qualche vostro amico, qualche vostro collega, o nel caso di Stefania, non so, la stazione appaltante, oppure uno dell'ufficio, ha stato coinvolto in un progetto, coinvolto con le diverse tipi di accesso. Sì, tipi di accesso. Aspetto, non mi viene di mente la parola, ma non fa niente. Allora, una volta che noi abbiamo avuto accesso all'ambiente di ASBIM Platform, compare in alto la voce nuovo progetto, perché inizialmente non c'è nessun progetto. Ok? Però, voi dovete guardare, cerco di ingrandire qua, se ci riesco ad ingrandire questa immagine qua, facciamo così, facciamo Format Image, facciamo 1500, ok, adesso si vede meglio. C'è la voce nuovo progetto e, vedete, c'è scritto, visualizza tutti i progetti attivi, inattivi ed archiviati, visualizza tutti gli attivi, volutamente li hanno scosti tutti, visualizza gli inattivi o visualizza gli archiviati. Gli archiviati vuol dire che sono progetti che non sono più in essere. Cioè, volevamo costruire il ponte sullo stretto di Messina, abbiamo deciso di non costruirlo più. Lo metto in archiviati. Chi è che mi può fare in modo che questo archiviato diventi ancora vivo? È solamente l'Admin Platform, solamente lui lo può fare, gli altri non lo possono fare. Allora, adesso in questo caso c'erano gli archiviati, e io ho fatto in modo che tutti gli archiviati venissero resi attivi. Quindi sono passati dallo stato di archiviati, sono diventati attivi. Perché li ho messi nello stato di archiviati? Siccome questi progetti erano, per me, erano frutto solamente di prove, ma non ci capivo niente, vi dico la verità, non sapevo neanche da che parte metterci il mouse, oggi vi devo dire che a distanza di una, neanche di una settimana, al momento mi muovo abbastanza bene. Quindi in questo caso io posso fare un nuovo progetto, oppure in questo caso ho messo questi due progetti nello stato di attivo. se io posso utilizzare questo menu, vedete, questo menu compare solamente quando siete nell'ambito dei progetti, siete voi a vedere cosa volete osservare. Allora, l'ambiente di lavoro, come abbiamo detto, è un ambiente scarno inizialmente, forse l'abbiamo appena visto. Allora, qual è la figura dell'Admin Platform? L'Admin Platform è l'unico che ha tutti i diritti di accesso a tutti i livelli, neanche il BIM Manager ce l'ha. Se adesso ingrandisco questa immagine qua, ecco, questo è il modo magari più... Grazie.